Questa macchina è piaciuta subito a noi perché ha le sue caratteristiche di Stoll e ci hanno subito appassionato. L'aeroprakt A22L2 è l'ultima evoluzione del velivolo più leggero e maneggevole della grande famiglia ucraina Aeroprakt. Le sue prestazioni, la sicurezza che offre e la particolare facilità di volo lo rendono uno degli aerei più interessanti e ricercati del panorama internazionale. Le ampie finestrature permettono un check di tutta la linea comandi molto veloce, quindi la stessa struttura dell'aeroporto ci permettono un check di questi comandi immediati. L'eccellente costruzione aeronautica e la qualità della progettazione, fatta da un pool di noti ingegneri dell'aviazione russa, conferiscono all'A22 una pagante esperienza di volo, grazie all'ottima manovrabilità, stabilità, tenuta e omogeneità dei comandi. Questo aereo è già fornito da Aeroprakt con paracadute e kit strutturale per poter reggere i carichi impulsivi del paracadute. Dal primo progetto del 1996 sono ormai oltre 2000 gli A22 che volano e vengono assistiti in ben 42 diversi paesi del mondo, a testimonianza di una qualità sperimentata e consolidata che consente a questo aereo di mantenere intatto il suo valore nel tempo. La sua semplicità di volo, la sua robustezza, la sua affidabilità nasce dalla scuola ucraina, quindi una scuola che ha decenni di esperienze nel settore aeronautico, quindi ci garantisce sulla qualità del prodotto. È il pelivolo ideale per le scuole di volo, per chi desidera un mezzo docile e confortevole, ma perfetto anche per il pilota sportivo che ne apprezza le spiccate caratteristiche STOL, il basso consumo, le ottime prestazioni, il range di utilizzo che supera i 1000 km. Abbiamo cercato qualità, caratteristiche di volo e bellezza. È l'aereo che più ci ha attratto nel mercato mondiale. Sicurezza, robustezza, comfort, prestazioni. Tutto questo è Aeropract.